Non so mai, più di mai, vi saluto anche all'amico Vino, da parte di Lammare, saluto il Franco, la stessa cliente che conosco, ti do bene, da Pagano, qualsiasi dalla bussata, l'Italia WP8, il PT, Ciro e gli altri corrispondenti, ci sono tanti amici, Domenico, sono le scuse, a te ricambio, io, QRT da parte mia momentaneamente, ci siamo ascoltati, ciao a tutti, la parte con il piano, rituati, più di Domenico, ilчеore, ovviamente, acquisto, Frastron, Raven, Damiaccio, sentiamo Levi, ci mettono un sacco di scarico e qui c'è un autore, un show il cappello del cammino. Da noi Damiaccio, sentiamo, grazie a questo nuovo saluto tanto a Mario e a Giuliano che E c'era pure Giorgio che è entrato prima salutando il Ciro, l'aiuto più oltre di una volta il Ciro a te la prova, poi non lo so se ci sono altre bussate, io negativo eh, io ho l'antenna lì per i 6 metri collegata, non ce la fiera, negativo la prova non la bussiamo male là su quel minitore. Allora vado per te Ciro e mi dici pure la notizia lì per quanto riguarda la macchina, avanti Ciro e il mio posto LXM ha permesso prego.